17 novembre, mancano solo 44 giorni alla fine dell'anno e non sai ancora cosa fare a Capodanno. Inoltre ti rimangono solo 38 giorni per trovare una risposta alle domande che ti faranno i tuoi parenti quando li rivedrai al pranzo di Natale. Ma per ora è meglio non pensarci. Concentriamoci piuttosto su oggi, la giornata internazionale delle studentesse e degli studenti. E lo faremo in questo podcast straordinario del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Cominciamo proprio dall'aspetto storico di questa ricorrenza. Il 28 ottobre 1939, a Praga, si tenne una manifestazione antinazista, nella quale furono arrestati 400 partecipanti, tra i quali la maggior parte erano studenti e ci furono 11 feriti e un morto. L'11 novembre, Jeanne Opletal, uno studente ferito durante la manifestazione appena un mese prima, morì. Quattro giorni dopo, il funerale di Jeanne, nato come un corteo di 3.000 studenti, si trasformò nuovamente in una manifestazione antinazista. 1.200 studenti furono arrestati e deportati in campi di concentramento e il 17 novembre, 9, tra studenti e professori, furono giustiziati senza processo. Esattamente due anni dopo, il 17 novembre 1941, venne dichiarata ufficialmente la giornata internazionale dello studente, a Londra, dal Consiglio internazionale degli studenti. Dopo la caduta del muro di Berlino, il 17 novembre smise di essere celebrato a livello internazionale e solo durante il Forum Sociale Mondiale di Mumbai in India nel 2004, alcune società studentesche internazionali decisero di rilanciare la data della giornata internazionale dello studente come simbolo della lotta contro le dittature e a favore dell'integrazione e del multiculturalismo. Attualmente la giornata internazionale dello studente in Italia vuole festeggiare lo studente e il suo diritto allo studio. Ma cosa vuol dire oggi diritto allo studio in Italia? Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, riconosciuto dall'ONU e ripreso dalla Costituzione italiana. Ma è sempre stato così? Solamente dopo l'Unità d'Italia, il reggio decreto istituì le opere universitarie e le casse scolastiche, sostituendo o affiancando precedenti istituti assistenziali. La riforma gentile del 23 modificò il supporto economico verso gli studenti. Con la nascita della Repubblica italiana e le entrate in vigore della Costituzione, vennero dichiarati l'articolo 33 e l'articolo 34, il quale enuncia La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto, con borse di studio, assegne alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Non sono stati emanati ulteriori aggiornamenti, fino alla famosa riforma La Buona Scuola, la quale conteneva al suo interno una delega all'emanazione di una legge sul tema del diritto allo studio. Essa si è concretizzata nel Decreto Legislativo 63-2017, denominato Effettività del diritto allo studio, attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disgiagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della Carta dello Studente a norma dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, numero 107. Questo decreto legislativo non è nato casualmente, ma dopo diverse richieste delle associazioni, facenti parte del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche, tra cui MSAC, che da anni portano avanti la proposta. Non tutte le proposte degli studenti sono ancora state recepite nel Decreto Legislativo 63-2017 e attendono quindi una legge quadro nazionale più ampia. In particolare, si propone di comprendere gli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale regionale e gli enti locali quali devono essere messi nella condizione di erogare i propri servizi. Ciao, sono Giovanni. La mia voce vi annuncia che questo podcast, purtroppo, sta per finire. E proprio per concludere vogliamo evidenziare il fatto che questa è la nostra giornata, la giornata a cui noi vogliamo ricordarci quanto sia bello essere studenti e quanto possiamo ritenerci fortunati di avere il diritto allo studio. Viva gli studenti! Grazie!